Il primo obiettivo e il primo risultato della politica delle infrastrutture che ho perseguito è stato lo sblocco delle grandi opere, che i nostri cittadini chiedono e che finora erano realizzate solo a segmenti. Abbiamo elaborato un'intelligente e selettiva applicazione della legge obiettivo, che non è una legge criminogena, come ho sentito dire, selezione deverosa e necessaria che ha permesso di inserire in un disegno strategico della infrastrutturazione del Paese che colleghi l'Italia nelle sue direttrici Nord-Sud-Est-Ovest. Abbiamo prodotto una selezione delle reti di interesse europeo e abbiamo sviluppato una strategia di collegamento dei nodi di interconnessione tra le reti stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. È noto a tutti che una delle anomanie con cui anche le grandi opere si sono realizzate negli ultimi dieci anni è che le grandi opere, le grandi reti non erano realizzate ai nodi. Il paradosso in cui viviamo, in cui viviamo in questo Paese, che abbiamo realizzato fortunatamente l'alta velocità, ma l'alta velocità non ha collegato i tre grandi aeroporti internazionali, quello di Fiumicino, quello di Malpensa e quello di Venezia. Sulla legge obiettivo allora nessun problema? No, non sono così ingenuo. Nella seduta del 21 maggio 2013 presso l'ottava Commissione della Camera dicevo testualmente che il difetto della vecchia legge obiettivo era di mettere in programma 750 opere, mentre si potrebbero individuare nel raccordo con le regioni le opere principali. C'è bisogno di una nuova legge obiettivo, dicevo, che possa individuare i nodi strategici e infrastrutturali del Paese, le grandi opere, le grandi aree metropolitane, immettere nuove risorse, accelerare i tempi di realizzazione delle opere, garantire la massima trasparenza, ripensare alla figura del general contractor. In parte questo è già stato fatto e si vedrà ancora di più con grande evidenza e in maniera organica dal prossimo allegato infrastruttura al documento di economia e finanza, già determinato nelle sue linee principali, dove la selezione delle opere infrastrutturali prioritarie per il Paese sarà drastica. La struttura tecnica di missione è stata, e nelle mie intenzioni deve continuare ad essere, lo strumento tecnico operativo per la realizzazione di questa visione. È grazie alla legge obiettivo e alla struttura tecnica di missione che i nostri cittadini possono andare in 45 minuti da Milano a Torino, in tre ore da Milano a Roma, in un'ora e dieci da Roma a Napoli e da lì a Battipaglia. L'alta velocità ferroviaria ha cambiato il modo di viaggiare degli italiani, come è forse più dell'autostrada del sole. Sono stati soldi e risorsi ben spesi ed è un disegno strategico da completare, da Torino fino a Trieste, da Battipaglia fino a Reggio Calabria, da Napoli a Bari, da Palermo, Messina a Catania. Inclusa la velocizzazione delle linee Adriatica e fino a Lecce. La mia difesa della struttura tecnica di missione non era la difesa critica dello status quo o del ruolo di un alto dirigente dello Stato, che puro ho apprezzato, ma dello strumento assolutamente migliorabile con il quale questo disegno può continuare ad essere perseguito all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I motivi che mi hanno indotto a non rimuovere Ercoli in calza dall'incarico di capo della struttura tecnica di missione, posto che lo occupava, occupava quel ruolo a seguito di procedura selettiva pubblica e con scadenza il 31 dicembre 2015, risiedono nel fatto che a seguito di una approfondita istruttoria della sua posizione ho potuto verificare come in calza e anche su sollecitazioni più volte fatte qui in Parlamento, da parte del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, nei vari procedimenti penali che lo hanno interessato non ha subito alcuna decisione di condanna, né per i casi in cui questi si sono conclusi per prescrizione del reato, alcun procedimento disciplinare sotto la responsabilità dei Ministri che mi avevano preceduto. Ritengo questo è un elemento oggettivo necessario per una persona che, come me, crede nello Stato di diritto e nella presunzione di innocenza. So che non tutti in quest'Aula condividono questo principio di civiltà giuridica, ma io su questo preferisco rimanere della mia opinione. Ercole in calza ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con nota del 17 dicembre 2014, anziché al 31 dicembre 2015. E, contrariamente a quanto è stato riportato anche da due interrogazioni parlamentari, a lui non è stato assegnato alcun incarico di consulenza al Ministero. Ricordo inoltre, per rispetto di quest'Aula e di tutti i colleghi parlamentari, che gli emendamenti discussi nel dibattito sulla legge di stabilità non riguardavano la singola persona o la proroga dell'incarico di Ercole in calza, ma la continuità dell'azione amministrativa della struttura tecnica di missione per impedirne l'automatica decadenza. E quindi la continuità dei lavori. C'è qualcosa da cambiare? Certo. Era mio preciso intendimento rivisitare la disciplina normativa vigente in materia di appalti e concessioni, in sinergia con l'ANAC e di affrontare alcune tematiche sensibili, come l'approvazione delle varianti, sulla cui anomalia mi sono soffermato più volte in tutte le audizioni presso le commissioni parlamentari e la nomina del Direttore dei lavori in caso di affidamento al General Contratto. Teantè che a questo hanno fatto seguito dei fatti. Il 29 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato su mia proposta il disegno di legge delega volto al riordino della materia, riforma del Codice degli Appalti. Oggi, 20 marzo 2015, il disegno di legge delega è ancora in commissione al Senato, dove dopo sette mesi si sono appena concluse le audizioni. Obiettivo della mia azione era anche il rilancio del settore dei lavori pubblici, non solo delle grandi opere, ma anche delle piccole e medie, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, ponti, viadotti, gallerie, strade ferroviarie, e lo sbocco dei cantieri nei piccoli comuni, le risorse destinate alle ristrutturazioni scolastiche, gli interventi di natura fiscale e di agevolazione dell'accesso del credito nel settore dell'edilizia. Perdonatemi, a proposito di fatti, i dati del Lance riferiscono che finalmente qualcosa si sta muovendo anche nel settore che ha subito drammaticamente la crisi. Più 3,6% nelle compravente di immobili nel 2014 rispetto al 2013, più 7,1% solo nell'ultimo trimestre. Dimostrano che cosa questi dati? Oltre al fatto che anche nei bandi di gara dei lavori pubblici in aumento del 2014 del 30,4% e il più il 18,3% in valore. Dimostrano che la politica che questo governo, che questa maggioranza ha messo in essere in questi anni, inizia a dare i suoi risultati. Con il decreto del fare, il decreto sblocca Italia, le due leggi di stabilità tra grandi e medie piccole opere e interventi di manutenzione in questi due anni abbiamo mobilitato risorse per 14,2 miliardi di euro. Non elenco perché il tempo è tiranno, anche le risorse che abbiamo giustamente affidato alle piccole opere, alla manutenzione straordinaria delle reti ai viadotti, alla riqualificazione degli edifici scolastici, ai piccoli comuni. Abbiamo realizzato un'opera di trasparenza che ha visto pubblicare tutti i dati sui collaudi delle grandi opere, l'elenco delle opere incompiute. Abbiamo consegnato al Parlamento e sono pubblicati sul sito del Senato tutti gli atti di fonte ministeriale sulle concessioni autostradali e sulle convenzioni tarifarie. A proposito di rotazioni dei dirigenti, come tutto il Governo, con il raccordo del Ministro Madia, ha fatto, non solo è avvenuta la rotazione, ma nel mio Ministero per la prima volta è avvenuta la rotazione per i provveditori alle opere pubbliche. È una politica infrastrutturale eterodiretta, come ho letto? È incentrata solo sulle grandi opere? La ragione è rappresentata dai fatti e più forte delle opinioni. Basta una ricognizione degli stanziamenti e delle norme procedurali varate nei 22 mesi in cui ho ricoperto la carica del Ministero per dare facilmente conto della netta prevalenza di interventi di piccole e medie dimensioni diffusi dal territorio rispetto alle disposizioni e anche agli stanziamenti che hanno riguardato la legge obiettivo. Basti un esempio. Abbiamo sottratto risorse finanziarie alle grandi infrastrutture con il Fondo Revoche e le abbiamo destinate all'affronto dell'emergenza abitativa. Abbiamo rifinanziato dopo anni il Fondo Affitti, abbiamo costituito il Fondo per l'amorosità incolpevole e destinato 500 milioni di euro al recupero degli alloggi popolari, destinando per le politiche della Casa la cifra complessiva di 2,7 miliardi di euro. Ho voluto lasciare per ultimo il tema che considero più importante e che ho chiesto di inserire tra le priorità del Piano Nazionale delle Riforme, e cioè la sollecita approvazione del disegno di legge delega di ricepimento, di cui ho già parlato, delle direttive appalti e concessioni 23, 24 e 25 dell'Unione Europea. Si tratterà di un'occasione davvero unica per rafforzare la qualificazione degli operatori e semplificare il quadro normativo. In questo sommario bilancio, concedetemi una parentesi per rivendicare, a nome di tutto il Governo, la felice conclusione non di una scelta programmatica, ma di un'azione che è riuscita a risolvere l'emergenza occupazionale di 13 mila persone e il rilancio di un'azienda strategica per il nostro Paese, per la nostra economia. Sto parlando di Alitalia, che dal baratro della possibile consegna dei libri in tribunale è passata oggi a competere sul mercato del settore aereo internazionale. Veniamo ora agli addebiti per una mia presunta condotta personale inopportuna. Credo che sia evidente a tutti quanti, e sia evidente quanto sia inverosimile, che un amico di famiglia da 40 anni abbia potuto solo pensare di accreditarsi a me regalandomi un vestito. Quanto a mio figlio, ho detto e ribadisco che non ho mai fatto pressioni con chi che sia per procurare un lavoro a mio figlio. L'intercettazione, strumentalizzata a questo fine, in cui chiedo all'ingegnere in calza di vedere mio figlio venuto a trovarmi a Roma per dargli consulenze e suggerimenti, documenta invece che ho proposto a mio figlio, ingegnere appena laureato, come farebbe qualsiasi padre, la possibilità di incontrare una persona di grande esperienza che potesse consigliarlo nella scelta da fare. La decisione di incalza di telefonare a Stefano Perotti non può coinvolgere la mia responsabilità. Conosco la famiglia Perotti dal 2001. È abitudine mia passare, come è stato dimostrato, delle festività di Sant'Ambrogio prima di Natale con la mia famiglia e con la sua. Conoscono i Perotti mio figlio sin da piccolo. Che bisogno avrei avuto di chiedere a incalza di intercedere per lui. Se fosse stata mia intenzione e non lo era e non l'avrei mai fatto, avrei molto più facilmente potuto farlo io. E non l'ho fatto. Mio figlio lavora in America, dove è approdato dopo che la società di ingegneria e architettura SOM al termine di uno stage di sei mesi gli ha offerto un'assunzione. Mio figlio, contrariamente a qualcuno come pensa di ricostruire sempre di retroscena, è stato mandato alla SOM di San Francisco dal Politecnico di Milano. Non da altri. Qui ha lavorato alla tesi di laurea per laurearsi con 110 lode nel dicembre del 2013. Nel gennaio 2014 la SOM gli ha fatto un'offerta di lavoro. Lui ha chiesto il permesso di lavoro per gli Stati Uniti, che è arrivato dopo un anno. Scaduta la prima lettera di employment, all'arrivo del permesso, la SOM gli ne ha inviata un'altra. Il 2 marzo mio figlio è partito per l'America e dal lunedì prossimo sarà dipendente della sede SOM di New York. Nell'anno passato ha accettato l'offerta di una collaborazione a partita IVA, 1.300 euro nette al mese, dalla società Mordi Genova legata a Stefano Perotti. Di fronte alle polemiche italiane, dopo due giorni di telefonate e richieste di informazione da parte dei media. La società americana SOM ha emesso un comunicato stampa in cui ricostruisce la vicenda e spiega perché ha assunto mio figlio, semplicemente perché lo considerano bravo. Come credo debba avvenire per tutte le persone che vengono assunte nel nostro Paese e per tutte le opportunità che devono essere a tutti i giovani di questo Paese. Quanto al regalo per la sua laurea, un orogio del valore di circa 3.500 euro, l'avessero regalato a me, l'ho già detto, l'avrei rifiutato, nonostante la mia vecchia amicizia con i Perotti. I Perotti l'hanno regalato a mio figlio, che conoscono bene, ben prima della mia nomina a ministro, in un'occasione importante come la laurea. Io non gli ho chiesto di restituirlo. Se questo è stato il mio errore, lo ammetto. Signora Presidente, onorevoli colleghi, arriviamo alla decisione assunta in piena coscienza e in base ai valori che hanno determinato e guidato il mio impegno politico all'idea di servizio alle istituzioni che ne consegue. A sole 72 ore dai fatti c'è la presa d'atto della necessità della mia scelta che sto compiendo e la mia comunicazione al Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, dimettendomi a 72 ore dai fatti e non a 72 giorni. Ho avuto l'onore di ricoprire un incarico prestigioso, di servire con dignità la nostra Costituzione. La Costituzione, tra l'altro, dice con disciplina e onore, essendo pronto in ogni momento a rinunciarvi. Ho sempre pensato che la politica non sia un mestiere o una professione, ma passione al servizio del bene comune. La mia prima reazione, suggerita da molti, da tanti colleghi parlamentari di opposizione e di maggioranza, da tanti amici, da tanti persone comuni, è stata che non ho fatto nulla. Perché dovrei dimettermi? Perché devo lasciare? Proprio in un momento in cui il tuo lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti, il tuo governo sta iniziando a cambiare il Paese come lo voleva cambiare. Perché devi lasciare nel momento in cui l'utilità per la gente, le imprese, i giovani che vengono assunti, inizia a vedersi concretamente realizzata? Ma con il passare delle ore, la scelta che dovevo fare, dovevo fare, non poteva che essere quella che ho sempre fatto nella vita. Paragonare la ragione per cui ho deciso di fare politica con la scelta che dovevo fare. Questo è quello che bisogna fare nella vita. Siamo uomini politici, ma uomini è il sostantivo. La sostanza politica è l'aggettivo. E l'uomo agisce sempre per uno scopo. E lo scopo della politica è servire il bene comune. Se questo passo indietro può essere un modo per prendere una nuova rincorsa, per ridare valore alle istituzioni che ho sempre servito, per rafforzare l'azione del nostro governo, per rilanciare il progetto del nostro partito, allora le dimissioni hanno un senso. Diventando ministro non mi sono dimesso né da padre né da marito. E ne intendo farlo oggi. Per me gli affetti vengono prima di tutto. Anche di una poltrona, anche se prestigiosa. A voi giovani deputati, che urlando fuori dalla realtà e agitando demagogie a brandelli, mi avete insultato in questi giorni. Vi auguro, ve lo auguro dal profondo del cuore, di non trovarvi mai dentro a bolle mediatiche difficili da scoppiare. Vi auguro di non avere mai qualcuno che con potenza di fuoco entra nella vostra vita, nei vostri affetti familiari, nella vostra intimità. Vi auguro di non avere mai nessuno che tiri in ballo la vostra famiglia. Ho molti difetti, molti limiti, ma dopo tanti anni ancora non perdo il sorriso e il buon umore. Ogni esperienza è in grado di arricchirmi e vedo il lato positivo di questa difficile vicenda. Tante persone mi hanno dimostrato amicizia, che per me è più importante di qualsiasi cosa, perché sarò un ingenuo, sarò un romantico, sarò fuori moda, sarò, come qualcuno ha detto oggi sui giornali e vittimamente ha avuto la possibilità di dirlo e ha ragione a dirlo, un comprimario. Ma la cosa a cui più tengo nella mia vita sono i rapporti umani, i rapporti personali, che possono nascere anche in politica. Per stringere amicizia su Facebook basta premere un tasto. Farlo nella vita è più difficile, ma è anche più bello. E nessuna intercettazione pubblicata e deconstestualizzata può togliermi ciò che per me vale più di tutto, dare la propria vita, il proprio impegno, le proprie capacità al servizio della tua comunità. Tommaso Moro diceva, scrivendo alla figlia, «Nulla accade che Dio non voglia e io sono sicuro che qualunque cosa avvenga, per quanto cattiva appaia, sarà in realtà sempre per il meglio. Lascio il Governo a testa alta. Guardandovi negli occhi, continuerò a fare il mio dovere, come è giusto farlo in Parlamento. Onorevoli colleghi, so che il tempo sarà galantuomo. Spero sia altrettanto galantuomo in futuro chi oggi ha speculato sul nulla. Ma paradossalmente la mia scelta di dimettermi non ha fatto vincere il pregiudizio, ma farà vincere il giudizio». Stop. Credo che ogni discorso, come ogni esperienza, debba finire con un punto. E io qui lo metto. Lasciatemi solo ringraziare i tanti colleghi della maggioranza e dell'opposizione, che in questi giorni mi hanno chiesto di andare avanti, e le tante persone che mi hanno inviato messaggi di sostegno e di amicizia. Lasciatemi ringraziare il Presidente del Consiglio, che al di là del retroscena, siamo troppo abituati in politica a vivere di retroscena, in questo palazzo a vivere di retroscena. In questi giorni, in un confronto leale, franco, serio, non mi ha mai chiesto di dimettermi, ma ha affidato, come è giusto che fosse, alla mia scelta personale questa decisione. Io credo che il valore di ogni rapporto umano e di ogni esperienza sia la gratitudine. E io non posso essere che grato al Parlamento, a coloro che hanno avuto fiducia in me, agli amici, a tutti voi, per la grande esperienza che mi avete potuto fare. Grazie.